Ciao, bentornati sul mio canale! Sono appena tornata dalle ferie, quindi sono super carichissima. Questo diorama in realtà è nato leggermente qualche giorno prima che io partissi, però posso fare il video solo oggi. È un diorama che chi mi conosce può aver già apprezzato in un altro video, ormai circa però un anno e mezzo fa, e mi piace molto quando riesco a farvi vedere i miglioramenti che un artigiano, in questo caso io, può avere. Perché comunque, riguardando quel lavoro che all'epoca mi sembrava stupendo e incredibile, voglio fare oggi questo video proprio perché secondo me ci sono stati da parte mia dei miglioramenti seri e concreti. Anche se questo è un diorama che ho fatto già otto volte, quindi alla nona volta secondo me è venuto ancora meglio, perché i primi comunque, i primi sette, otto sono stati tutti ravvicinati, quindi molto, molto, molto simili tra di loro. Questo invece un anno e due mesi dopo, un anno e mezzo dopo quasi, risulta essere secondo me più bello e più realistico. C'è poco da dire su quello che rappresenta, nel senso che sicuramente se avete aperto questo video è perché amate Tex Wheeler. Tex Wheeler ha svariati, svariati nemici, ma per me, come dissi già nell'altro video, sicuramente quello che mi impressionò di più quando ero piccola fu questo, cioè è il muerto. Questo, diciamo, vendicatore, sfigurato in seguito ad un brutto incidente causato mentre Tex dava la caccia a lui e i suoi fratelli, lo ha reso ai miei occhi veramente indimenticabile e noto con tanto piacere che in realtà è piaciuto anche a voi, perché se su 12 diorami che ho fatto di Tex, 9 riguardano questo numero che poi era composto da due, cioè questa storia composta da due numeri, sicuramente avrete avuto anche voi, diciamo, le mie stesse sensazioni. Come vedete adesso sta sicuramente Chiara inquadrando le tombe dei due fratelli, anche qui credo di aver fatto un upgrade, ho aggiunto una colonna di fiori in uno e dei fiori appunto con dei ciottoli nell'altro e dato comunque questo senso molto molto di... beh, era un cimitero, però un cimitero, diciamo, di quelli che possiamo vedere appunto nel far west, quindi non curato, assolutamente, come posso dire, incolto, e io volevo appunto che questa cosa trasparisse, come anche nel precedente lavoro del resto, però credo ecco che questo sia migliore. La storia è molto bella e ci sono quindi degli elementi che non potevano mettere, tra tutti, chiaramente, il carillon, il ciondolo, che poi farà da, come posso dire, timelapse per il loro duello, dove chiaramente il nostro Tex vince. Due parole sulle statuine, sapete, perché l'ho già detto, ma loro dico ancora, amo tantissimo questa linea, finalmente secondo me hanno fatto una linea, perché ce ne sono anche altre, di statuine ben, come posso dire, definite. Io le ho solo ridipinte, con la mia incapacità, perché non mi sento brava a dipingere le statuine, ho giusto dato un tocco in più per marcare certi dettagli. Le statuine io le ho tutte, quindi in realtà qualsiasi cosa vi venga in mente di chiedermi, facendo chiaramente riferimento ai fumetti, la posso fare. Le statuine si trovano tranquillamente su ebay, ma anche molti edicolanti, per esempio il mio edicolante ce ne aveva alcune, le tiene ancora, perché comunque ogni tanto tornano fuori e vedo con tanto piacere che si vendono, nonostante ci sia una forte crisi del fumetto, che tra l'altro mi colpisce in primo piano, perché mi dispiace molto, sono affezionatissima ai fumetti bonelli, ai fumetti in generale, ai fumetti bonelli in particolare. E niente, quindi questo diorama li vede protagonisti in questo duello che per me fu epico, quasi tutto in legno, quello che vedete è tutto fatto in legno, polistirene XPS, e tanta, 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 tanta manualità e spero tecnica che penso si veda, si veda molto in questo diorama. Io spero che il prossimo diorama di E-Tex sia diverso, perché ho in mente di fare il 4 parts al Saloon, vediamo se anche voi magari raccoglierete la sfida, se a qualcuno di voi può piacere l'idea, o comunque scrivetemi se avete chiaramente qualche idea. Sapete che lavoro solo su commissione, a parte quando creo le cose per me e per la mia compagna, essendo molto nerd, essendo molto amanti, sicuramente qualcos'altro di E-Tex faremo, appunto pensavo al Saloon perché ci piace molto come scena, ma se qualcuno di voi volesse commissionare un nuovo diorama, chiaramente felicissima di accogliere le vostre richieste. Vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!